La Salernitana, sono nato calcisticamente al Vestuti e ho vissuto, quello che non sanno nemmeno tanti tifosi, una settimana intera, col principio se la Salernitana vinceva o perdeva. Mi alzavo la domenica mattina, dico delle cose che molti non sanno, che non ho mai detto e che spero che qualcuno potesse anche capire in questo momento. La domenica mattina io mi alzavo e vedevo se il cielo era nuvoloso o era sereno, perché dovevo andare al Vestuti a montare gli striscioni. Sono nato calcisticamente con questo desiderio di allenare la Salernitana e dico in questa trasmissione, se un giorno io dovessi allenare la Salernitana, ma io sarei più forte di Murigno, di Van Gaal, di qualsiasi allenatore, perché le motivazioni nel raggiungere l'apoteosi calcistica che potrei avere io, ne le potrebbe avere nessuno. Ho finito.